In ogni uomo c'è un bambino che vuole giocare. È un bambino che ancora è capace di meravigliarsi di fronte al mondo, che sa trovare gioia nelle piccole scoperte e semplici divertimenti. È quel bambino che ride di cuore, che non teme di cadere perché sa che si può rialzare e continuare a correre. È il bambino che si affaccia alle finestre della vita con occhi curiosi e aperti, pronto ad imparare, a sperimentare, ad esplorare. E se riusciamo a far emergere quel bambino, se riusciamo a farlo giocare, allora possiamo sentirci veramente vivi perché la vita stessa diventa un gioco, un'opportunità di scoperta e gioia.